In occasione della festa organizzata nell'area adiacente al pala di Martin di Montesilvano dal circolo cittadino di Fratelli d'Italia, il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsiglio, ha ribadito la volontà di portare avanti gli obiettivi del suo governo. È stata anche l'occasione per fare un bilancio. Presentiamo tra qualche mese agli nastri di partenza potendo presentare un bilancio molto positivo per il nostro territorio con alcuni risultati raggiunti mai ottenuti prima, dalle infrastrutture allo sviluppo economico, al rilancio e alla valorizzazione del territorio attraverso il turismo, il cinema, lo sport. Insomma sono tutti appuntamenti e tutti obiettivi che possiamo dire serenamente di aver raggiunto nonostante anni difficili, pandemia, guerra, crisi economica. Quindi abbiamo le carte in regola per chiedere ai cittadini la fiducia per un altro mandato, ci stiamo organizzando per questo. Si è confermata l'autorevolezza di Giorgio Meloni, ha proseguito il presidente. Tante sono state le adesioni al partito di Fratelli d'Italia in tutto il paese e l'Abruzzo non fa differenza con Pescara che supera le altre province. Abbiamo voluto questa sera celebrare il tricolore in mezzo alla gente, per stare sul territorio, non soltanto per chiamarlo quando bisogna votare, ma per sentirne gli umori, per capire i disagi e per risolvere anche i problemi loro. Grazie a tutti.